Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere tornato il sereno. I due, come confermato da entrambi, sono in buoni rapporti, uniti dal grande amore che provano per il figlio che hanno avuto insieme Santiago. Il conduttore di Affari Tuoi è anche legato a Luna Mar, la seconda figlia della showgirl, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. La sorella di mio figlio mi sento uno zio, aveva detto in un'intervista al Corriere della Sera nel 2022, anno in cui ci fu un ritorno di fiamma con Rodriguez. Anche sulle pagine di oggi De Martino chiarisce il legame con la piccola. Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tet, ancora non riesce a dire Stefano. Luna ha un padre e ce l'ha, non ho mai pensato di sostituirlo. La conferma di questo affetto arriva ancora oggi nelle foto dell'ultimo servizio pubblicato sempre sul settimanale. Negli scatti l'ex di Amici si trova sotto casa dell'ex moglie, quando incontra la madre di Belen, Veronica Cozzani, in compagnia di Luna Mar. Immagini dolcissime che mostrano quanto Stefano tenga a lei. L'ha vista ed è letteralmente impazzito, si legge sulla rivista. Stefano De Martino e il legame speciale con Luna Mar, figlia di Belen. Avvistato sotto casa della ex moglie Belen Rodriguez per attendere il figlio Santiago al rientro da scuola, Stefano De Martino si è mostrato dolcissimo con Luna Mar, la figlia della showgirl avuta con Antonino Spinalbese. La piccola si trovava in compagnia della nonna Veronica Cozzani e negli scatti pubblicati su Oggi si vede chiaramente la gioia del conduttore nel rivedere la bambina. L'ha presa in braccio e riempita di coccole per poi farla sedere sulla sua vespa. De Martino non ha mai nascosto l'affetto che prova per la piccola, che per alcuni anni quando lui e Rodriguez ci hanno riprovato ha visto anche crescere. Belen Rodriguez pronta per Discovery e intanto su Angelo Edoardo Galvani no comment. Sul settimanale Oggi, oltre alle dolci foto di Stefano De Martino che saluta Luna Mar, si parla anche dell'attuale compagno di Belen.